È ripreso da circa due minuti il secondo tempo, perdiamo per 2 a 1, il nostro marcatore è stato Luca Rulli su assist di Del Bello Riccardo. Adesso l'arbitro ha dato un fuorigioco su un gol realizzato da Federico, l'arbitro avvicinò che c'era fuorigioco da qua, non sembrava, comunque è l'arbitro che decide, l'arbitro è un novizio. Adesso è sfortuna, adesso potevamo pareggiare sia con il gol che aveva realizzato Federico di Donato e sia adesso con un doppio rimballo. I ragazzi sono rientrati più determinati con la voglia di... Ci troviamo 2 a 1 a favore dei padroni di casa.